Che succede? Cosa fate? Che vi prende? Lea! Bialca! Le faccio vedere una cosa. Quello è un luogo di riposo per gli animali. Quasi tutti sono stati uccisi dai cacciatori. I miei cani. Lei crede che anche loro potrebbero essere stati uccisi da qualcuno, padre. Vorrei almeno poterli seppellire. Non puoi trattarli come se fossero persone. Fai peccato. E quei cimiteri sono per gli uomini. Dio ha creato tutti gli animali sottomessi all'uomo. È questo l'ordine delle cose. Ma lui non ci ha dato il diritto di ucciderli. Non uccidere, dice il comandamento. Si riferisce agli uomini, non agli animali. Il brano che avete ascoltato è una scena del film Pocot, di Agnieszka Holland, tratto nel 2017 dal romanzo di Olga Tokarczuk, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti. Una storia controversa, in cui la scrittrice polacca stabilisce un parallelo tra l'asservimento della natura e l'asservimento delle donne da parte della società patriarcale e clericale. Una storia estremamente dura di dolore e morte, ma anche di resurrezione, perché le presenze epifaniche che vi compaiono, in forma di donne e animali, ci fanno intravedere la possibilità di una ricostituzione dell'armonia spirituale dei viventi, di tutti i viventi, umani e animali. Con buona pace dell'antropocentrismo predicato dalla Chiesa Cattolica. Le storie sono strumenti potenti, a volte ti spiazzano e ti portano dove non avresti pensato di andare, spostano i confini, spalancano mondi, parlano della realtà attraverso mostri, cyborg e alieni, veri eredi dell'umano. Io sono Giuliana Misserville e mi occupo di narrativa e scrittrici. Ecco a voi La Mano Sinistra, il podcast delle storie fantastiche. Sono molti i romanzi o i racconti che mettono al centro un animale. A volte il punto di vista è collocato sul versante umano e lo sguardo sull'esistenza dell'animale riflette di volta in volta sensazioni fisiche o mentali o anche paure intime a cui magari stentiamo a dare un nome. La lista sarebbe lunga, ma pensiamo solo come esempio alla Chatt di Colette o La morte della mosca di Marguerite Duras. La scrittrice polacca Olga Tokarczuk, nel 2018 Pregno Nobel per la letteratura, pubblica, nel 2009, il romanzo Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, in cui fa un altro tipo di operazione. Non scrive di un animale particolare, ma in quelle pagine compaiono cani, volpi, cinghiali, cervi, insetti e perfino batteri. Sono animali che costeggiano e accompagnano la vita di uomini e donne. Sono animali domestici, animali selvatici, da compagnia, da allevamento. Sono animali che a volte guardano gli umani con uno sguardo giudicante, perché Tokarczuk scrive soprattutto di quello che è il rapporto che intratteniamo con loro. Un rapporto che nel corso degli ultimi cento anni è divenuto di estrema violenza e sfruttamento. E di questa sofferenza riteniamo che mai verremo chiamati a rispondere, che mai ce ne verrà chiesto il conto. In guida il tuo carro sulle ossa dei morti, l'autrice, ibrida e il romanzo poliziesco con l'apologo morale, ambientando il tutto in una zona di montagna della bassa Slesia, Polonia, vicino al confine con la Repubblica Ceca. Gli inverni sono particolarmente duri e gli abitanti si conoscono tutti. Lì vive Janina, ex ingegnera civile e ora insegnante di inglese in pensione, che racconta la storia dal suo punto di vista. Lei è convinta che la serie di omicidi che si stanno verificando nella valle sia un'opera degli animali selvatici, che si vendicano così di chi li caccia o alleva senza pietà. Janina, da appassionata astrologa, sembra cercare nelle costellazioni astrali il senso di quei delitti inspiegabili. Negli oroscopi la data della nostra nascita indica anche la data della nostra morte. È una legge di natura. Tutti quelli che nascono prima o poi muoiono. C'è un punto nella carta astrologica che ci dice quando e come moriremo. Basta sapere dove guardare. Questa visione esoterica dell'esistenza trova riscontro nelle continue citazioni di William Blake, un poeta e artista vissuto a cavallo tra 700 e 800 e famoso per le sue illustrazioni della Bibbia e della Divina Commedia. Citazioni che punteggiano tutto il romanzo attraverso le traduzioni a cui lavora uno dei personaggi con l'aiuto di Janina. La cosa più interessante è notare quanto alcuni motivi di Blake si ritrovino in Tokarczuk. Non solo Blake era noto per l'ostilità nei confronti della Chiesa d'Inghilterra e per le sue convinzioni religiose piene di misticismo. Ma soprattutto Blake credeva nel potere dell'immaginazione e riteneva che l'umanità potesse superare i limiti dei cinque sensi per arrivare a una forma di conoscenza più alta. Per tutte, la sua affermazione è nel matrimonio del cielo e dell'inferno. E cioè, se le porte della percezione fossero purificate tutto apparirebbe all'uomo come in effetti è, infinito. Anche la spiritualità che permea il romanzo di Olga Tokarczuk è qualcosa di molto distante dalla pratica religiosa propugnata dalla Chiesa Cattolica e da prelati che sembrano aver scordato la pietà che va riservata a ogni creatura. E su questo Tokarczuk è tornata più volte a ribadire la sua distanza dalla gerarchia ecclesiastica. Penso che la religione sia una specie di istinto. Molti di noi hanno un bisogno profondo di spiritualità e di comprendere il mondo non solo in quanto cose materiali che sono intorno a noi, ma cercando qualcosa che sta fuori. È un bisogno molto profondo che abbiamo. Non è possibile descrivere il mondo senza prestare attenzione a questo bisogno. La religione è importante e sono interessata specialmente a quel tipo di religione che cerca di trascendere, che va oltre quel che noi conosciamo, che rompe i confini. La religione può essere percepita come qualcosa di molto positivo, rendendoci più consapevoli. Quando la religione diviene istituzione, strumento di potere e aggressione, crea e controlla i confini. Quindi mi piace l'eresia. Ogni singolo caso di eresia è qualcosa che apre, che ci apre, ci mostra i confini e ci pone la domanda di come superarli e guardare che cosa c'è fuori. Nel romanzo in questione questa spiritualità si tinge di fantastico per la compresenza delle apparizioni delle persone più amate, la madre, la nonna, con quella delle due cane, le bambine, così le chiama Janina. Tutte sono fantasmi che donano al quotidiano lo spessore del tempo che passa e ritorna. Un po' come le apparizioni che troviamo in un altro romanzo di questa scrittrice polacca, dal titolo Nella quiete del tempo, presenze o meglio scie che attraversano la percezione dei vivi, donando alla storia le risonanze del mito. Praviek è il villaggio raccontato dal romanzo Nella quiete del tempo, pubblicato nel 1996. Un luogo al centro dell'universo, percorso dai fiumi bianca e nera, segnato da alture come la collina dei Maggiolini, ha quattro arcangeli a vegliare i suoi confini e un tempo scandito dalle consuetudini più semplici. La narrazione segue i vari personaggi per un periodo che si svolge dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale agli anni Ottanta del secolo scorso. È un microcosmo nel quale coesistono l'idiota, la strega, il castellano che dedica la vita a un misterioso gioco, gli alberi del bosco, le anime dei soldati morti, i funghi, tutti visti come creature viventi. Nel suo discorso per il Nobel ricevuto nel 2018, Tokarczuk individua nelle favole che le leggeva la madre la nascita del suo interesse per il fantastico. In una di esse di Hans Christian Andersen, una teiera che era stata gettata nella spazzatura, si lamentava di quanto fosse stata trattata con crudeltà dalla gente. Non appena le si era staccata la maniglia, si erano sbarazzati di lei, ma se non fossero stati perfezionisti così esigenti, avrebbe comunque potuto continuare a essere utile. Da bambina ascoltavo queste fiabe con le guance arrossate e le lacrime agli occhi, perché credevo profondamente che gli oggetti avessero i loro problemi ed emozioni, così come una sorta di vita sociale, del tutto paragonabile a quella umana. I piatti del cassettone potevano dialogare e cucchiai, i coltelli e le forchette nel cassetto formavano una specie di famiglia. Allo stesso modo gli animali erano creature misteriose, sagge e autocoscienti con le quali eravamo sempre stati collegati da un legame spirituale e una somiglianza radicata. Ma anche i fiumi, le foreste e le strade avevano la loro esistenza. Erano esseri viventi che mappavano il nostro spazio e costruivano un senso di appartenenza, un enigmatico Raumgeist. Anche il paesaggio che ci circonda era vivo, così come il sole e la luna e tutti i corpi celesti, l'intero mondo visibile e invisibile. C'è in Tocarciuk una percezione del mondo impregnata di tenerezza, al punto che la scrittrice arriva a teorizzare una letteratura costruita sulla tenerezza verso qualsiasi essere diverso da noi stessi. Sogno anche un nuovo tipo di narratore, una quarta persona, che ovviamente non è solo un costrutto grammaticale, ma che riesce a comprendere la prospettiva di ciascuno dei personaggi, oltre ad avere la capacità di andare oltre l'orizzonte di ciascuno di essi, che vede di più e ha una visione più ampia e che è in grado di ignorare il tempo. La tenerezza personalizza tutto ciò a cui si riferisce, rendendo possibile dargli una voce, dargli lo spazio e il tempo per venire all'esistenza e per essere espresso. È grazie alla tenerezza che la tagliera inizia a parlare. È nella tenerezza verso gli animali che affondano le radici, i delitti raccontati in guida il tuo carro sulle ossa dei morti, una citazione di Blake per l'appunto, di cui però non svelerò l'esito o il colpevole per non rovinarvi la lettura. E in questa contraddizione sta la grandezza di questo romanzo a tratti crudo e aspro, nel dipanarsi della sua trama che lega tenerezza e giustizia. Ma per cercare di capire un po' di più chi sia Olga Tokarczuk e quale sia il suo posto nel mondo culturale polacco, sono andata a cercare Susanna Krasnopolska, studiosa e traduttrice, socia della Società Italiana delle Letterate, che scrive abitualmente per la rivista leggendaria, sull'ultimo numero, il 145, potete leggere un suo reportage su quello che sta succedendo in questi giorni in Polonia, e su Letterate Magazine. Ciao Susanna e benvenuta in questo podcast. Puoi darci un'idea di che Olga Tokarczuk in Polonia? Cioè, viene letta, è una voce importante e seguita, o al contrario è una figura controversa e isolata? E il Nobel? Ha cambiato qualcosa in tutto ciò? Innanzitutto grazie per la possibilità di poter parlare della mia scrittrice preferita. Allora, per rispondere alla tua domanda, Olga Tokarczuk è un fenomeno editoriale, e non solo. Laureata in psicologia, spicca per l'originalità dei suoi libri, ed è molto abile a intrecciare diversi aspetti di filosofia, religioni, culture, scienze magiche e paganesimo. Si tratta di un fenomeno sul mercato editoriale polacco. I suoi libri sono ricchi di allusioni filosofiche e antropologiche, richiedono una particolare dose di concentrazione, non sono una lettura facile, eppure vendono bene. Ha ricevuto moltissimi premi letterari in Polonia, ancora prima del Nobel, il primo premio importante già per il suo secondo romanzo nell'Acquiete del Tempo, ed è stata sempre, più o meno dall'inizio degli anni 90, una voce importante. Il Nobel dunque non ha cambiato molto, è stato solo una conferma del suo talento. Non è stato come nel caso di Szymborska, che nel 96 era poco conosciuta in Polonia, nonostante pubblicasse dagli anni 50. Tokarczuk è stata seguita anche prima del Nobel. Anche la mia esperienza personale con l'opera di Tokarczuk può testimoniare il suo essere seguita. Il primo romanzo suo che ho letto è stato Casa di giorno, Casa di notte del 98, considerato il suo primo successo. Al liceo la mia professoressa di lettere l'aveva consigliato a tutti, subito dopo la sua pubblicazione, ma a pochi è piaciuto. È un libro molto mistico, ma anche molto difficile per i licealisti, probabilmente. Non l'abbiamo capito, era troppo presto. Dopo qualche anno l'ho ripreso e mi sono innamorata della scrittura di Tokarczuk. Ma vedi, Tokarczuk, anche se non inclusa nel programma scolastico, era comunque presente, andava consigliata. Szymborska no. Sono molto interessata a capire come vengono recepite in Polonia le posizioni della scrittrice sul femminismo e sul suo anticlericalismo. Considerando che la Chiesa è stata una istituzione rivoluzionaria nel processo di distacco dal mondo sovietico, ricordiamo solo l'azione diplomatica di Papa Wojtyla, eletto al soglio pontificio nel 1978 contro il mondo comunista e il sostegno non solo economico a Solidarność. Ma come viene vissuta oggi, a tanti anni di distanza, la Chiesa Cattolica come istituzione? Risponderò dalla fine, in grandi linee, perché è un tema molto ampio e molto attuale in Polonia in questi mesi. Come hai detto, la Chiesa per anni è stata il garante del consenso sociale, la base della resistenza, prima, durante e dopo il regime sovietico. Ma adesso ha perso questo suo ruolo, sia per via delle posizioni razziste e omofobe, sia per gli scandali della pedofilia. Da più o meno due anni stanno uscendo, hanno scoperto molti casi, nascosti per anni. Per esempio, in questi giorni si parla molto del fatto che Wojtyla era al corrente di tutti gli scandali, ma li considerava meno importanti della lotta per la democrazia. E anche il cappellano della Solidarność, ormai morto da anni, è stato qualche anno fa accusato di pedofilia. Ci sono pochi preti che condannano il razzismo e l'omofobia presente nella Chiesa polacca, pochi preti che vogliono aiutare le vittime della pedofilia. La maggior parte, con l'acqua in bocca, aspetta il momento che non se ne parli più. Oppure crede che, spostando un prete accusato da una parrocchia all'altra, la gente dimentica. e anche l'atteggiamento della Chiesa nei confronti delle donne non la sta aiutando. La Chiesa è il motivo dell'esistenza del compromesso del 93 sull'aborto. Fra le parentesi, il compromesso del 93 è quello secondo cui l'interruzione della gravidanza è permessa solo in tre casi, pericolo di vita di madre, pericolo di vita del feto, e ho gravidanza dovuta allo stupro e all'incesto. La solidarnosc, quella storica, prima del 93 era anche favorevole al diritto all'aborto, ma non se ne volevano occupare subito. Dicevano di avere altre cose da fare prima e così è andata persa la possibilità. In più, non volevano attaccare la Chiesa, ma tenerla come l'alleato. I governi che sono venuti dalla solidarnosc e dopo la solidarnosc facevano alleanze con la Chiesa che stava diventando sempre più redrograda e ha iniziato a dettare le sue condizioni. Durante le manifestazioni delle donne che si stanno svolgendo adesso in Polonia da ottobre, partecipano molti giovani. È la loro prima lotta, la loro prima protesta. È anche la prima volta infatti che partecipa la generazione nata nel ventunesimo secolo, che se ne frega di quel compromesso del 93. Non lo capisce, non se ne frega di quello che c'è dietro. Per loro, Giovanni Paolo II è un personaggio storico, non un santo. La Chiesa non è più il garante del consenso sociale, ma il perpetratore della pedofilia e dell'omofobia. In più, dall'ottobre si notano sempre più numerosi atti di apostasia. Dunque, l'anticlericalismo di Tukarciuk non è più così scioccante come forse ancora 20 o 30 anni fa. Olga Tukarciuk non ha mai nascosto il suo femminismo e anticlericalismo, ma quello che irrita molti è soprattutto la sua critica dell'attuale governo polacco. specialmente la critica che è arrivata dopo l'omicidio del sindaco di Danzica Paweł Adamowicz assassinato il 13 gennaio 2019 in un articolo scritto per il New York Times dove Olga Tukarciuk ha scritto cito in una società sana e normale le persone possono non andare d'accordo l'una con l'altra possono perfino avere opinioni completamente diverse ma ciò non significa che devono per forza odiarsi. Le autorità polacche tuttavia hanno fatto della divisione dei polacchi la loro missione principale. Nell'articolo parla anche della presenza del hate speech nei discorsi pubblici e l'abbassamento generale degli standard e lei sa perfettamente di cosa sta parlando perché anche lei è vittima da tempo degli incitamenti all'odio diffusi dalle notizie in televisione e in rete. Nell'ottobre 2015 Tukarciuk ha ricevuto il più grande riconoscimento letterario polacco il premio Nike per il romanzo i libri di Jakob è in corso la traduzione in italiano che è la storia di un personaggio storico molto ambiguo sullo sfondo della Polonia settecentesca una nazione multietnica multiculturale lontana però dalla visione idilliaca di un paese senza roghi tipica dell'immaginario storico polacco e l'uso del tempo presente nel romanzo comporta anche un altro aspetto sia i riferimenti al dibattito attuale sui confini dell'Europa sulla toleranza sulla gestione della crisi dei profughi e durante l'intervista successiva alla premazione Tocarciuk ha confermato e qui anche cito ci inventammo la storia della Polonia come un paese tollerante aperto un paese che non si era macchiato di nessun male nei confronti delle minoranze e invece facemmo delle cose atroci in quanto colonizzatori maggioranza nazionale che ripremeva la minoranza proprietari di schiavi e assassini di ebrei e queste sue parole hanno provocato un'ondata di odio e minacce di morte nei suoi confronti da parte della destra estrema uno dei politici del partito PiS ha istigato al boicottaggio della scrittrice un finanziatore anonimo ha messo in paglio mille suote dunque circa 250 euro per chiunque sputasse in faccia alla scrittrice le hanno dato dell'Ucraina dell'ebrea le consigliavano di emigrare in Israele allora diciamo che quello che irrita di più in Tocarciuk che può irritare di più è la critica dell'attuale governo per quanto riguarda il suo femminismo lei si è sempre pronunciata in difesa e a favore delle donne ogni volta quando c'era bisogno di firmare una petizione lei è stata sempre una delle prime e ha lanciato anche un hashtag prima delle elezioni presidenziali in Polonia quest'estate decideranno le ragazze c'è stato un dibattito in Polonia all'uscita di Guida il tuo carro sulle ossa dei morti a proposito delle posizioni animaliste e anticlericali espresse nel romanzo allora il libro in Polonia è uscito nel 2009 e mi ricordo le accuse dell'ecoterrorismo nei confronti della scrittrice ma il dibattito si è fatto molto più animato è molto più attuale dopo l'uscita del film Pocot nel 2017 il film tratto da romanzo di Agnieszka Holland specie perché sia Tokarczuk sia Holland erano da sempre critiche nei confronti sempre del partito PiS al potere dal 2015 e il film è diventato un manifesto politico di entrambe nel 2017 il governo stava tagliando la foresta primordiale di Biaowieza e introducendo delle leggi permissive ai cacciatori per esempio una legge secondo cui un cacciatore può entrare sparando in una proprietà non sua e in Polonia c'è un movimento animalista? Sì ci sono ci sono varie organizzazioni e anche per la prima volta nel Parlamento c'è adesso un partito dei Verdi molto animalisti alleato con l'Eviza sinistra ovviamente all'opposizione ci sono pochi deputati pochissime deputate ma sono molto attivi con diverse proposte di legge ovviamente tutte bocciate dal PiS all'inizio loro sono anche molto presenti durante le manifestazioni a favore dell'aborto e attivi nella difesa delle protestatrici arrestate Guida il tuo carro sulle ossa dei morti istituisce una sorta di parallelo tra l'asservimento della natura e l'asservimento delle donne le grandi manifestazioni contro la restrizione della legislazione sull'aborto significano che il femminismo è vivo e sta bene in Polonia? allora c'è chi dice che il più grande problema del femminismo in Polonia è il fatto che si tratta di un raggruppamento di individui senza identità femminista disperso in piccoli gruppi è privo della consapevolezza di appartenere a una collettività più grande e questo forse era vero qualche anno fa ma adesso si sta unendo è tutto grazie a Marta Lempard dell'associazione Ogulnopolski Strike Kobiet sciopero nazionale delle donne già coordinatrice delle proteste della rivoluzione degli ombrelli del 2016 e delle proteste nere del 2016 e 2018 Marta Lempard è una donna fantastica carismatica tutta ad un pezzo schietta coerente sa perfettamente quando deve mettersi in secondo piano per lasciare spazio alle giovani è stata anche nominata da Financial Times una delle donne dell'anno 2020 la partecipazione l'entusiasmo e la rabbia che si vedono e si sentono adesso durante le manifestazioni sono molto più forti rispetto alle proteste precedenti degli anni scorsi sciopero nazionale delle donne è riuscito a formare una comunità mai vista prima e anche a organizzarla è stato creato a fine ottobre un comitato consultivo che ha redatto una lista di postulati ufficiali fra i quali spiccano diritti delle donne diritti LGBTQ è stato laico con una netta separazione fra lo Stato e la Chiesa tribunali apolitici e anche protezione di clima e diritti degli animali e altri postulati senti Susanna prima ho accennato a come Tocarciuk utilizzi elementi fantastici nei suoi romanzi oltre ai due di cui abbiamo parlato e cioè Guida il tuo carro sulle ossa dei morti e nella quiete del tempo ci sono altre opere in cui il fantastico sia rilevante? c'è anche un altro testo di Tocarciuk non tradotto in italiano va bene ci sono tanti libri di Tocarciuk ancora non tradotti però questo intitolato Storie bizzarre è una raccolta di dieci racconti una raccolta pubblicata nel 2018 dunque un anno prima del Nobel il titolo Storie bizzarre che lei lo giustificava come un aggettivo un nuovo aggettivo per fantastico dunque anche come storie fantastiche racconti fantastici per mostrare questo mondo dove viviamo sempre più bizzarro sono dei racconti sorprendenti che permettono di guardare in un nuovo modo la nostra realtà così tanto bizzarra così tanto fantastica un'ultima domanda per concludere a partire dal discorso del Nobel sintetizzato nel titolo Il tenero narratore dovrebbe essere uscito in Polonia nel corso del 2020 un volume di saggi di Tocarciuk che ancora non è stato tradotto qui in Italia e tu Susanna ce ne potresti dire qualcosa? Sì è uscito il 12 novembre lo sto leggendo adesso è una raccolta di conferenze alle università non pubblicate prima e di saggi pubblicati negli ultimi 12 anni su diverse riviste riscritti di nuovo nell'insieme sembra un racconto sul processo creativo sulla situazione dello scrittore sulle traduzioni sui personaggi sul mondo scritto di Tocarciuk lei stessa lo definisce come l'invito nel suo studio senza fingere senza maschere una guida attraverso quello che le passa per la testa il suo mondo immaginario un invito alla discussione e tutto gira intorno all'idea che sarà la letteratura a salvarci i testi parlano del mondo attuale c'è uno che discute la necessità della creazione delle nuove parole per descrivere il mondo in continuo cambiamento ci sono due testi sul viaggiare il suo aspetto morale immorale e ecologico un altro sull'impossibilità di viaggiare adesso c'è un testo sugli animali sull'atteggiamento degli uomini nei confronti degli animali sulla differenza fra il modo in cui viene concepita la sofferenza umana e quella degli animali il volume si legge come un racconto con questo stile fiabbesco e così pieno di allusioni e collegamenti fra letterature culture diverse religioni termina qui questa puntata dedicata alla narrativa di Olga Tokarczuk e grazie grazie veramente a Susanna Krasnopolska che ci ha fatto fare un tuffo così circostanziato nella cultura polacca ecco penso di dover sottolineare che dopo questa intervista a fine gennaio in Polonia è entrata in vigore la contestatissima norma che vieta l'aborto anche in caso di malformazione del feto e che in pratica sancisce il divieto quasi totale di abortire per un approfondimento rimando al reportage di Susanna sulle proteste nelle piazze polacche che possiamo leggere sul numero 145 della rivista leggendaria la mano sinistra il podcast delle storie fantastiche è un progetto ideato e realizzato da me e da Federica Fabiani che inoltre ha prestato la sua voce a Olga Tokarczuk vi aspettiamo alla prossima storia a presto a presto a presto